La casta è riuscita ad attaccarmi e farmi perdere il mio match Io sono tornato in Italia e dall'Inghilterra per vincere tutto E la casta si continua a mettere in mezzo Difendendo la old school, tutta questa ideologia della old school Siamo nel futuro ragazzi e dovete modernizzarvi Domenica 17 Mirko Mori difenderà la new school sul ring di Fight Forever Presentatevi e io vi spezzo il culo